Per arricchire il nostro bagaglio lessicale proveremo a dare le definizioni di due termini chiave del linguaggio geografico economico, indotto e delocalizzazione. L'indotto nel settore secondario è l'insieme delle piccole e medie industrie che producono le parti elementari necessarie alle grandi industrie per realizzare un prodotto finito. Pensiamo ad esempio ad una fabbrica di automobili che assembla i vari pezzi provenienti dall'industria del vetro, è il caso del parabrezza e dei finestrini, della plastica e dell'elettronica da cui giungono il cruscotto e tutti i relativi componenti, del tessile che si occupa dei rivestimenti dei sedili e così via. Le aziende dell'indotto solitamente si trovano nel cosiddetto interland della città che ospita la fabbrica principale, cioè nella sua periferia industriale. Le attività di quest'area dunque lavorano al servizio del centro produttivo di riferimento e da esso dipendono economicamente. Nel settore terziario invece il termine indotto viene spesso associato al turismo. Comprende dunque tutto l'insieme di servizi commerciali che ruotano attorno ad una località di villeggiatura balneare, sciistica, una città d'arte o ospitante un grande evento. Prendiamo a modello il festival della canzone italiana che si tiene ogni anno a Sanremo. La manifestazione, che richiama in città decine di migliaia tra lavoratori e appassionati, porta un beneficio economico alle strutture ricettive, cioè bar, ristoranti e alberghi, ai negozianti in genere, al casino, ai tassisti, a parrucchieri e sarti, eccetera. Molte di queste attività insomma lavorano soprattutto in funzione di questo e di altri grandi avvenimenti e da essi dipendono economicamente.